La protesta degli imprenditori agricoli contro il caro gasolio e il caro prezzi arriva anche fino a Botricello. La mobilitazione del mondo agricolo è sceso in piazza in tutta la Calabria e gran parte del sud Italia, con un lungo corteo di trattori per dire no alle direttive delle politiche europee che stanno asfaltando il comparto. A Botricello, dunque, si è riunito un nutrito gruppo di agricoltori del posto, ma anche alcuni provenienti dalla Mezzeterme. Dopo l'incontro avvenuto nei giorni scorsi con l'assessore all'agricoltura della regione Calabria, Gianluca Gallo, in Cittadella, gli imprenditori chiedono che il governo regionale faccia da tramite con quello centrale per cambiare le direttive europee che sono diventate insostenibili.